John Peter McAllister, l'unico occidentale, l'unico americano che avesse mai assimilato le arti marziali e la disciplina della setta dei ninja. Una volta faceva parte di questa setta segreta e poi l'aveva abbandonata, quindi gli altri membri avevano decretato la sua morte. Ora sta ricercando negli Stati Uniti una figlia che non sapeva di avere ed è braccato da Ocasa, una volta suo allievo, ma ora votato alla sua morte. Il maestro aveva trovato un nuovo allievo, cioè me, Max Keller. Sapevamo che Ocasa era sulle nostre tracce. Il maestro aveva trovato un nuovo allievo, ma ora votato alla sua morte. Il maestro aveva trovato un nuovo allievo, ma ora votato alla sua morte. Il maestro aveva trovato un nuovo allievo, ma ora votato alla sua morte. Il maestro aveva trovato un nuovo allievo, ma ora votato alla sua morte. Il maestro aveva trovato un nuovo allievo. Il maestro aveva trovato un nuovo allievo, ma ora votato alla sua morte.